Buongiorno a tutti, sono Gabriele della DRC. Sono qui oggi per presentarvi la nostra gamma di cerchi in alluminio e carbonio. Carbonio, faccio una breve parentesi perché abbiamo solamente questo modello per cross country, prodotto sul nostro disegno e nostre specifiche, invece per quanto riguarda tutta la gamma dei cerchi in alluminio, li produciamo noi in Italia, nel nostro stabilimento e anche questi sono prodotti con leghe d'alluminio di altissimo livello. Abbiamo una gamma completa che va dal cerchio per strada, V-brake, strada freno a disco, gravel, cross country, abbiamo diversi modelli per diversi canali dal 21 fino a arrivare al più largo da 27 e poi abbiamo dei cerchi molto interessanti e molto utilizzati anche da atleti a livello professionistico col canale del 30 e 27 sempre per l'enduro. Questa è la nostra gamma di cerchi, se avete altre curiosità potete consultare il nostro sito www.drc.it oppure andare sul sito di rms www.rms.it e scaricare il loro catalogo online.